Nessuna fuga, anzi c'è spazio per l'aggancio. La donna giornata del campionato di eccellenza fa registrare ancora una volta delle novità in vetta alla classifica. L'USB tonto nel match di cartello, giocato davanti al pubblico amico del Città degli Ulivi, supera 2-1 in rimonta il Gallipoli e affianca proprio i Salentini sul primo gradino del podio a quota 19 punti. Succede tutto nella ripresa. Scialpi intorno all'ora di gioco trova il vantaggio Parile cesi su punizione con la complicità di una deviazione che beffa a Dario. Gli ospiti falliscono clamorosamente il gol del raddoppio, poi lasciano spazio alla rimonta della formazione di Gino Zinfolino che pareggia i conti con terrone tra le proteste dei giocatori del Gallipoli. Per loro la palla non oltrepassa la linea bianca e poi trova il punto del definitivo sorpasso a pochi minuti dal termine con Moscelli su calcio di rigore. Era una partita equilibratissima che gli episodi la potevano portare da un buon due alle parte, noi ci abbiamo creduto e anche dopo il gol subito dagli avversari io penso che in campo siamo stati concentrati e motivati a sfruttare se capitasse le nostre occasioni. Sono venuti in un campo difficile con una grande personalità, sono andati in vantaggio, potevamo chiudere la partita, non ci siamo riusciti e poi abbiamo per due errori nostri perso ma sono molto contento dei ragazzi. Incredibile la bagarre nei quartieri alti della graduatoria con ben sei squadre racchiuse in due soli punti, terzo posto a meno uno dalla vetta per Vigortrani, Avetrana e Fasano. La formazione di Massimo Pizzulli in forte emergenza soffre più del previsto per avere ragione al comunale del Galatina ma alla fine la spunta con il punteggio di 2-0 a segno Faccini e la Vop nella ripresa decisivo inoltre il super intervento di Sansonna sull'1-0. Ultimo gradino del podio anche per Fasano, a Novoli decide questo gol di Ganci e Avetrana che batte 2-1 in casa, uno deludente Omnia-Bitonto ed infila così. L'ottavo risultato utile di fila vince anche il Casarano, stranieri nel primo tempo decidi al capozza la sfida con il Barletta e permette alla formazione di Pietro Sportillo di portarsi almeno due dalle capolista. Crissi, Nera, almeno questo dicono i risultati per i biancorossi di Franco 5 che non segnano da tre partite e sono terzo ultimo in classifica con soli quattro punti all'attivo. Risorge il Corato che supera la Radeo con un gol di Perna e infila la seconda vittoria consecutiva dopo quella nel recupero con il Novoli. Il Vieste con questa rete di Brianese ferma la marcia del Molfetta mentre l'Unione Calcio strappa tutto sommato un buon punto ad Otranto. Binetti porta in vantaggio i Bicegliesi, poi Musacco para due rigori ai Salentini che trovano l'aggancio nel finale concetto.